Usura fra Torre Annunziata e Castellammare, racket da un milione e mezzo di euro, la Guardia di Finanza ha portato a termine una serie di controlli fiscali nei confronti di 17 soggetti. In particolare l'obiettivo delle fiamme gialle del gruppo di Torre Annunziata è stato quello di intercettare e misurare l'effettiva capacità contributiva derivante dai tassi usurari. L'imposta è evasa complessivamente recuperata, attestazioni ammonto a quasi 400.000 euro che ora dovranno essere versati all'erario. Si tratta di soggetti recentemente destinatari di misure di custodia cautelare e di sequestri patrimoniali del valore di oltre 2.400.000 euro. Per recuperare i soldi delle vittime ricorrevano spesso a pesanti minacce, atti di violenza fisica o addirittura l'uso delle armi. Alcuni degli usurari sottoposti a controllo fiscale gravitavano in ambienti della criminalità organizzata, in altri casi sono risultati legati da vincoli di parentela narcotrafficanti di spessore internazionale. In altri ancora si è trattato di imprenditori e professionisti che avevano persino costituito una vera e propria cassaforte in Svizzera, le cui provviste finanziarie venivano utilizzate per alimentare i prestiti usurari.